Tre giorni di gemellaggio tra CIEC e Scinomachi, c'era quindi una mostra, ci saranno diverse iniziative. Cosa succederà questi giorni a Civitavecchia? Allora, quello che tentiamo di fare come associazione Amici di Scinomachi è quella di tenere vivo quello che è il gemellaggio con la città di Scinomachi e quindi di promuovere un festival, forse il termine è un po' grande per quello che poi riusciamo a fare con i nostri modesti mezzi, diciamo pure. E però c'è anche da dire che effettivamente riusciamo a risvegliare quel sentimento che ormai è un sentimento molto profondo nell'animo dei Civitavecchiesi. A parte quelli che anche ragazzi studiano la lingua giapponese, questo è un fatto abbastanza importante, e abbiamo tutta una serie di iniziative che vanno avanti durante il corso dell'anno e quindi ricollegano poi quelli che sono gli appuntamenti con gli amici che vengono dal Giappone, con i nostri gemelli, che hanno delle radici culturali importanti. In questi giorni ci sono due manifestazioni alla chiesa cosiddetta di San Giovanni di Dio, cioè quella del vecchio ospedale a Piazza Calamatta, una mostra di bonsai, una mostra fotografica molto molto interessante. Nell'Aula Pucci, nell'atrio dell'Aula Pucci, quindi della Sala Consigliare, abbiamo una mostra organizzata da me, ma è la stessa che in fondo abbiamo fatto poi nel 2015, a ottobre, e racconta un po' tutta la vicenda del gemellaggio e la vicenda più recente, diciamo, delle manifestazioni che sono state fatte, ad esempio nel 2001, proprio ai Shinomaki, nel Museo San Juan Bautista, e anche quello che è avvenuto purtroppo qualche tempo dopo con il terremoto e lo tsunami che ha distrutto quasi completamente la parte bassa della città, ha visto lutti notevoli, tra cui i nostri amici dell'Associazione Gemella e così via. Grazie a tutti.